Il giro del mondo imbarca vela in solitaria. Ho già inviato l'iscrizione. Come? Qualcuno l'ha mai fatto prima? No, ma se ci riesco potrà farlo ogni uomo che ha un sogno. Qualsiasi uomo sano di mente abbandonerebbe una tale impresa. Promettimi che tornerai a casa. Io ci metto i soldi. Tu cosa ci metti? Tutto il resto. Dove sono i primi? 3.000 miglia davanti a Donald. Se vado avanti le probabilità di sopravvivere sono 50 e 50. Se torno indietro vado incontro alla mia rovina. I riflettori sono su Donald Crowarth. La sua barca ha raggiunto una velocità notevole. Cosa faccio adesso? Papà vincerà! Sono qui da solo! Pensavo di giocare meglio la mia partita. Donald Crowarth voleva diventare famoso. Ora è il suo momento. Siamo noi i responsabili di questo! Gli abbiamo messo troppa pressione! Resteremo sempre insieme, non importa quanto saremo distanti. domani e per tutti i giorni che verranno i miei figli avranno bisogno del padre. E io avrò bisogno di mio marito. La vita merita di essere risulta. La domanda diventa... Fino a che punto sei disposto a spingerti... per darle un senso.